Le criticità più evidenti nel sistema sanitario messe in evidenza dal Covid e la scarsa integrazione tra strutture sanitarie e professionisti. Le regioni hanno reagito alla pandemia da Covid in maniera diversa. I percorsi per i pazienti con la medicina del territorio e la prevenzione hanno fatto emergere diversi punti di debolezza. Sono questi alcuni dei temi trattati questa mattina nel corso del dibattito che ha visto insieme nel Salone Moca di Salerno Paola Pisanti, estensore del piano nazionale Cronicità e responsabile coordinatore del progetto di ricerca e l'onorevole Nicola Provenza, membro della Commissione Affari Sociali e Sanità alla Camera dei Deputati e presidente intergruppo parlamentare sulle cronicità. Covid e fragilità, due parole chiave negli ultimi due anni ma non solo. Sono anche il titolo del libro di analisi e ricerca scritto dalla dottoressa Paola Pisanti e dal dottor Fosco Foglietta che è stato presentato questa mattina con il deputato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole dottore Nicola Provenza. E' questa scassa integrazione che crea lo scollamento del percorso del paziente, il quale durante il Covid si è sentito anche abbastanza isolato nonostante l'utilizzo di qualche elemento di tecnologia come può essere la sanità digitale. Però quello che noi dobbiamo costruire ed è la finalità del progetto ma anche la finalità delle istituzioni sia pubbliche che private e di fare in modo che la persona venga in qualche modo tutelata, cioè il governo centrale deve prendersi tutela delle persone fragili. Persone fragili che sono quelle che oltre ad avere però la patologia hanno anche delle condizioni socioambientali che ritardano l'accesso alle cure o impediscono poi che l'evoluzione della malattia venga in qualche modo tutelata. Oggi abbiamo la consapevolezza di tutto ciò, proprio il periodo della pandemia oggi porta dei risultati purtroppo non positivi e tante persone soprattutto per quel che riguarda la prevenzione oncologica hanno pagato caro il prezzo di questi ritardi della sanità. Sì, è vero questo. Abbiamo avuto un abbassamento dell'accesso agli scrini oncologici. La domanda che però ci si chiede è stato veramente poi il Covid a determinare la scarsità di accesso oppure ci sono state anche altri tipi di problematiche.